Il Guaro salta un uomo, arriva al limite, gioco di gambe, con il vento e tiro, è gol, è gol, è gol, il Guaro, il Guaro, primo gol ufficiale, bellissimo. Il Guaro salta un uomo, è gol, 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 è gol. Lassisi Calciano e Guarilla mette il terzo gol al minuto 42, terzo gol dell'Inter. Grazie a tutti. 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 solo porta vuota Iguaro è gol 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 Cassano buona 1-2 per Iguaro che può andare dentro e in trenare se la lunga un po' troppo perché non poi perde palla la palla è buona Alvarez guarite la piazza è gol è gol è gol è gol è gol è gol raddoppio di Iguaro un po' troppo La rincorsa del Jaguar Il suo destro, palo E gol, e gol, e gol, e gol, e gol Inter in vattaggio 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 Inter in vattaggio